Ciao, smettila di autosabotarti. Noi abbiamo dei meccanismi autosabotatori per cui andiamo a fallire lì dove logicamente vorremmo riuscire. E questi meccanismi autosabotatori in realtà che cosa sono? Sono dei pensieri che non sono i nostri pensieri, ma sono pensieri che sono stati introiettati, introiettati al punto tale che crediamo siano nostri. Sono pensieri di giudizi negativi che nel corso della nostra vita sono stati espressi in prima istanza dalle figure significative, il papà, la mamma, gli educatori, espressi soprattutto in stato di tensione emozionale. Quindi quando questi pensieri vengono espressi in stato di tensione emozionale, sedimentano, sedimentano, entrano dentro, scendono nelle profondità dell'inconscio e vengono assimilati, assimilati al punto tale che crediamo siano nostri. Per cui se nostro padre o nostra madre ci dicevano che eravamo dei falliti e non valevamo nulla, questo pensiero a un certo punto prende vita autonoma e sembra che sia un nostro pensiero. Per cui dentro di noi nasce la convinzione che siamo dei falliti e non valiamo nulla e quindi ci comportiamo come tali. Perché questi pensieri vanno a realizzare delle profezie che puntualmente si autoavverano e confermano lo stesso pensiero. E diventa una suggestione. Una suggestione è un pensiero che viene messo in uno stato di coscienza tale per cui diventa reale, diventa, tende a tradursi nel comportamento del pensiero stesso. Se noi vogliamo sbloccare questi meccanismi dobbiamo andare a ristrutturare dei vecchi pensieri. Questi pensieri, dicevo, sono connessi a delle emozioni, perché senza le emozioni il pensiero non attacchisce. Quindi noi intanto come facciamo a capire se abbiamo dei condizionamenti? Beh, lo capiamo semplicemente. Quando le cose continuano ad andarci male in modo sistematico, sempre nello stesso modo, magari continuiamo a incontrare la persona sbagliata nelle relazioni sentimentali, ci innamoriamo di persone che ci fanno soffrire, sempre più o meno in un modo o nell'altro, allora c'è un meccanismo di autosabotaggio sottostante. Dobbiamo andare a smantellarlo. E per smantellarlo dobbiamo risalire al pensiero, dal pensiero risalire all'emozione, dall'emozione risalire all'origine, all'origine del male, a dove è nato questo pensiero, e andarlo a ristrutturare. Ristrutturare significa immettere l'antidoto, mettere il pensiero opposto. In questo modo noi riusciremo a eliminare i meccanismi di autosabotaggio e potremo viverci tranquillamente le relazioni in modo, come dire, felice, perché abbiamo diritto di essere felici. Dobbiamo smetterla di rovinarci la vita. Perché poi questi comportamenti avvengono in modo automatico, sistematico, e noi continuiamo a fare le stesse cose sperando di ottenere risultati diversi. Ma questa è l'essenza, come diceva Einstein, della pazzia. Credere che facendo le stesse cose si possono ottenere risultati diversi. E noi facciamo le stesse cose inconsapevolmente e abbiamo la speranza, limitiamo la speranza di ottenere risultati diversi che non arriveranno mai. Per cui soltanto sbloccando queste emozioni compresse, soltanto sbloccando questi meccanismi autosabotatori, riusciremo a raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi. Se sei interessato o interessata a capire, a lavorare su questi meccanismi, puoi partecipare domani, venerdì 17 marzo, ora 20.45, a Torino, presso l'Educatorio della Provvidenza, in corso 30.13. Farò un seminario proprio dal titolo Elimina le emozioni che ti bloccano per coinvolgere, per sedurre le persone che ti interessano. Quindi domani, ora 20.45, Educatorio della Provvidenza, 17 marzo, Torino. Se sei interessata o interessato, trovi le info nel box. Il riferimento però è 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che se ti iscrivi al canale, avrai la possibilità di vincere dei corsi gratuiti con me che potrai scegliere se fare dal vivo o se fare via video. Ciao!